Buongiorno ragazzi! Buongiorno! In questo video vi mostreremo un po' la nostra quotidianità e alcune delle cose che abbiamo visitato qui a Tortovel, ma ce ne sono ancora molte altre che mostreremo poi successivamente. Buona visione! Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Oggi è il primo di settembre, quindi è un mese che ci siamo messi in viaggio. Oggi lo festeggiamo andando a lavoro. Per il momento, ma dopo si festeggerà molto meglio. Lui anziché fare le coccolame, tappe i buchi del fiume. Si sta creando la sua piscinetta naturale. Bravo! Spaccati ancora di più la schiena, che la vendemmia non ti basta! No, vi assicuro che la sua intenzione era quella di entrare e uscire subito. Va bene così, amore? Un attimo! Come bimbi? Esci? Sì, un attimo! Soddisfatto del tuo lavoro! Si? Si vede! Continua a guardarlo! Cos'hai da dire? Soddisfatto! Adesso può ricrescere l'acqua! Si! Eccoci a festeggiare il nostro primo mese di viaggio! Siamo qua da Decathlon, che lui sta facendo shopping, si sta comprando un paio di scarpe, dato che le sue gliel'hanno rubate. Purtroppo! Non ci sono più le nostre scarpe. Comunque queste qua sembrano andare bene. Le costano pure poco, 17 euro. Sono comode? Sì! E poi ci siamo comprati, perché ci hanno sempre anche rubato, delle ciabatte. Guardate che belle col mandala! Wow! Sta premando le scarpe per vedere se vuole! Ha voglia di fare un po' di sport! Van bene? Stai anche abbastanza dal lavoro! Van bene? Vanno bene, vanno bene! Si? Sì! Quindi andate? Vendute? No, mi guardo! Finalmente, dopo lavoro, una bella pasta da mangiare! Un bel piattone enorme! Che buono! Ce lo meritiamo! Ce lo meritiamo! Guardate quanta pasta, quanta, quanta! Che delizia! Quindi per dopo abbiamo la maionese con il formaggio che è imbustato! La falsa maionese francese! La falsa maionese perché questa ha la mostarda! Cioè, ci andiamoci conto! E vabbè! La senape! Senape e mostarda! Moutarde! Buon appetito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo anni, spingi. Sembra un te bagnato. Poi non si ferma più, ora che ha trovato l'acqua è contenta. Faccio un bel sorriso. E' la prima volta che vediamo uscire acqua da una fontana tra tutta l'edita. Dove stiamo andando? Oggi andiamo a visitare il castello di tutta me. Guardate che bella sta stradina, piena di alberi. Sembra una foresta incantata, vero? Sì, molto bella. Tra circa 20 minuti, forse anche meno, dovremmo essere già al castello qui vicino. Ma ecco il mio abbandonato. E' andato là in cima. Il mio abbandonato. Io devo affrontare tutta sta scalinata. Pazzesco. Proviamo. Allora, da dov'è che si sale? Da qua. Vedete che ci sono queste rocce. Benissimo. Eccoci arrivati. Allo château di Tauta, è tutta bello. Wow, wow, wow. C'è una bella vista, lì? Yeah, bellissimo. Che spettacolo! Non sono scuro, si può stare a aprire così, però. Però, pian piano la sto destruggendo e quindi funziona. Alla fine il risultato è aprirla. In qualche modo si dovrebbe aprire comunque. Ste scatolette francesi. Non ci mettono la linguetta. Vi faremo sapere se si è aperto o meno. Allora, ci mettono la linguetta. Vi faremo sapere se si può stare a aprire così. Grazie a tutti.